Quando il Presidente George Albert Smith era giovane, suo nonno, che era morto, gli apparve in sogno e gli chiese, vorrei sapere che cosa hai fatto del mio nome. Il Presidente Smith rispose, non ho mai fatto nulla del tuo nome di cui tu possa vergognarti. Ogni settimana, quando prendiamo il sacramento, facciamo alleanza e promettiamo che siamo disposti a prendere su di noi il nome di Cristo, a ricordarci sempre di Lui e ad obbedire ai Suoi comandamenti. Dobbiamo desiderare di fare queste cose. Così facendo, ci viene promessa una benedizione straordinaria, ossia che il Suo Spirito sarà sempre con noi. Proprio come il Presidente George Albert Smith dovette rispondere a suo nonno di cosa aveva fatto del suo nome, ciascuno di noi dovrà rispondere al Salvatore e Redentore, Gesù Cristo, di cosa abbiamo fatto del suo nome. L'importanza di avere una buona reputazione viene illustrata in proverbi, dove si legge che la buona reputazione è da preferirsi alle molte ricchezze, è la stima, all'argento e all'oro, e il nome del giusto è in benedizione. Meditando su questi passi delle scritture e sull'importanza di avere una buona reputazione, un'ondata di ricordi ha riempito la mia mente circa la buona reputazione e il retaggio che i miei genitori hanno lasciato a me e ai miei quattro fratelli e due sorelle. I miei genitori non avevano né ricchezza nel mondo, né oro né argento. Nove di noi sono cresciuti in una casa con due sole stanze, un solo bagno e una veranda nel retro dove dormivano le due sorelle. Quando i miei genitori morirono e i miei fratelli e sorelle, io e i miei fratelli e sorelle ci incontrammo per dividerci i loro beniterreni. Si rettavano in una lista di cose molto breve. Mia mare lasciò alcuni vestiti ben stirati, dei mobili usati e pochi altri oggetti personali. Mio padre lasciò alcuni strumenti da falegname, dei vecchi vucili da caccia e poco altro. Le uniche cose che avessero un certo valore economico erano una modesta casa e dei piccoli risparmi. Assieme piangemmo apertamente di gratitudine, sapendo che ci avevano lasciato qualcosa di molto più prezioso dell'argento e dell'oro. Essi ci avevano dato il loro amore e il loro tempo. Ci avevano spesso reso testimonianza della veridicità del Vangelo, che ora possiamo leggere nei loro preziosi diari. Non tanto con le parole, ma piuttosto tramite l'esempio ci avevano insegnato a lavorare sodo e ad essere onesti. Inoltre ci hanno instillato il desiderio di portare a termine i nostri studi, andare in missione e soprattutto di trovare un compagno eterno, sposarci nel Tempio e perseverare fino alla fine. In verità ci hanno lasciato il retaggio di una buona reputazione per la quale saremo sempre grati. Quando il beniamato profeta Elaman e sua moglie ricevettero la benedizione di avere due figli, li chiamarono lei e Nefi. Elaman spiegò ai suoi figli perché furono chiamati con il nome di due dei loro antenati, che avevano vissuto sulla terra quasi 600 anni prima della loro nascita. Disse, ecco figli miei, vi ho dato il nome di vostri primi genitori, lei e Nefi, e ho fatto ciò affinché quando ricorderete il vostro nome, possiate ricordare le loro opere, e che quando ricorderete le loro opere, possiate sapere come è stato detto e anche scritto che furono buoni. Perciò figli miei, io vorrei che faceste ciò che è bene, affinché possa essere detto ed anche scritto di voi, proprio quanto è stato detto e scritto di loro, affinché possiate avere quel dono pressiono della vita eterna. Fratelli e sorelle, tra 600 anni, come verranno ricordati i nostri nomi? A riguardo di come possiamo prendere su di noi il nome di Cristo, così da proteggere la nostra buona reputazione, Moroni ha insegnato, e vorrei ancora esortarvi a venire a Cristo, a tenervi stretti ad ogni buon dono, e a non toccare i doni malvagi, nelle cose impure. Sì, venite a Cristo e siate perfetti in Lui, e rifugite da ogni impietà. Nell'ispirato opuscolo per la forza della gioventù, si legge la libertà di scegliere un principio eterno dato da Dio, che comporta responsabilità morali per le decisioni prese. Sebbene siamo liberi di scegliere noi stessi, non siamo liberi di scegliere le conseguenze delle nostre azioni. Quando prendiamo la decisione, subiremo le conseguenze che quella scelta implica. Poco dopo che io e la mia amata Devonna ci sposammo, lei condivise con me la storia di come avesse imparato in gioventù questa importante dottrina, secondo la quale siamo liberi di scegliere, ma non siamo liberi di scegliere le conseguenze delle nostre azioni. Con l'aiuto di mia figlia Scegli desidero raccontarvi l'esperienza della sorella Arnold. Quando avevo 15 anni, spesso avevo l'impressione che ci fossero troppe regole con andamenti. Non ero ben convinta che una normale adolescente, cui piaceva divertirsi, potesse godersi la vita con così tante restrizioni. Inoltre le numerose ore di lavoro nella fattoria di mio padre stavano sottraendo molto tempo da passare con i miei amici. Una particolare estate, uno dei miei compiti era assicurarmi che le mucche al pascolo sulla montagna non abbattessero il recinto e andassero nel campo di grano. Una mucca che pascia il grano, che sta crescendo, può gonfiarsi fino a soffocare e morire. C'era una mucca, tuttavia, che cercava sempre di mettere la testa fuori dal recinto. Una mattina, cavalcando lungo il perimetro del recinto per controllare il bestiame, scoprì che quella mucca si era aperta un barco ed era uscita nel campo di grano. Purtroppo mi resi conto che era già da un po' che stava pascolando, in quanto si era già gonfiata come un pallone. Pensai, stupida mucca. Il recinto era lì per proteggerti, eppure l'hai abbattuto ed hai mangiato così tanto grano che ora rischi la tua vita. Tornai rapidamente alla fattoria per dire a mio padre che venisse a curare la mucca intossicata. Tuttavia, quando ritornammo, la trovai che giaceva morta sul suolo. Mi sentii triste per la perdita di quella mucca. Le avevamo dato una bellissima pastura in montagna dove pascolare è un recinto per tenere lontana dal pericoloso grano. Nonostante tutto, aveva stupidamente abbattuto il recinto e causato la propria morte. Nel considerare il ruolo del recinto, mi resi conto che era una protezione, proprio come lo erano i comandamenti e le regole dei miei genitori. I comandamenti e le regole che erano per il mio bene potevano salvarmi dalla morte fisica e spirituale. Questa comprensione costituì un momento fondamentale della mia vita. La sorella Arnold imparò che il nostro benevolo, saggio e amorevole Padre Celeste ci ha dato dei comandamenti, non per limitarci, come dovrebbe farci credere l'avversario, ma per benedire la nostra vita e proteggere la reputazione e il retaggio che lasceremo alle generazioni future, proprio come nel caso di Lea e Nefi, proprio come la mucca che ha subito le conseguenze della sua scelta. Ognuno di noi deve imparare che l'erba non è mai più verde dall'altra parte del recinto e non lo sarà mai, poiché la malvagità non fu mai felicità. Ognuno di noi subirà le conseguenze delle proprie scelte al termine di questa vita. I comandamenti sono chiari e ci proteggono, non sono una restrizione, mentre le meravigliose benedizioni che derivano dall'obbedienza sono innumerevoli. Il nostro Padre Celeste sapeva che avremmo fatto tutti i delori. Sono estremamente grato per l'espiazione che permette a ognuno di noi di pentirci e operare i cambiamenti necessari affinché possiamo una volta ancora essere uno con il Salvatore e provare la dolce pace del perdono. Il nostro Signore e Salvatore ci invita quotidianamente a ripulire il nostro nome e a ritornare alla sua presenza. Il suo incoraggiamento è pieno di amore e tenerezza. Immaginate assieme a me l'abbraccio del Salvatore mentre leggo le sue parole. Non volete ora ritornare a me, pentirvi dei vostri peccati ed essere convertiti affinché io possa guarirvi? Oggi vorrei lanciare a ognuno di noi la medesima sfida che i miei buoni genitori, che saranno sempre ricordati grazie alla loro buona reputazione, hanno proposto a me. Prima di agire immaginate il Salvatore al vostro fianco e chiedetevi, penserei, direi io farei questa cosa sapendo che Egli è qui? Poiché Egli è davvero qui. Il nostro caro Presidente Monson, che io attesto essere un profeta, spesso cita questo versetto quando parla del nostro Salvatore. Signore, poiché andrò davanti al vostro volto, sarà la vostra destra e alla vostra sinistra, e il mio spirito sarà nel vostro cuore. In quel giorno grande e meraviglioso, in cui staremo di fronte al nostro benamato Salvatore per dare un resoconto di cosa abbiamo fatto del Suo nome, mi auguro che potremo dichiarare, io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservato la fede, l'espiazione è reale, possiamo essere purificati. Gesù è il Cristo ed è morto affinché potessimo vivere. Questo io lo so, di questo rendo testimonianza, nel nome di Gesù Cristo. Amen.